Siamo all'isola del Lazzaretto Vecchio, come vedete è un'isola che fa parte del territorio lagunare e in questo momento è data e incomodato l'uso ad un'associazione, l'archioclub di Venezia che ne cura la minima manutenzione, ha visto un periodo di restauri che sono stati sospesi e in questo momento aspetta la volontà, non solo politica, di realizzarne il progetto che tutta la città vorrebbe. Manca a Venezia un museo che realmente racconti la storia della realizzazione di questa città. Recentemente il Ministero per i beni e le attività culturali ha stanziato i primi 5 milioni destinati al restauro e ai lavori nell'isola del Lazzaretto Vecchio per fare questo Museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia. Il nostro obiettivo è quello di vigilare sulla gestione di questi stanziamenti e in particolare su quale stazione appaltante verrà individuata, su quali saranno le procedure d'appalto, sui lavori che verranno fatti ed eventualmente i servizi erogati e soprattutto sul risultato finale. E l'obiettivo che noi abbiamo come Movimento 5 Stelle è quello di testimoniare, è quello di raccontare e di essere attenti e vigili perché questo accada e anche questa isola non venga privatizzata. Grazie a tutti.